Benvenuti in questo nuovo video. Allora, scusate per questo video podcast, questo audio, audio diciamo, no, video, video sì, ma audio podcast, perché ovviamente sto registrando di sera. Benvenuti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Scusate la ripetizione. Perciò, allora, notizie della Juventus fresche, diciamo, con il nostro nuovo allenatore, Tiago Motta, e la sua organizzazione di gioco, diciamo, di voglia di trasmettere emozioni, sensazioni di gruppo e intensità. Intensità, e diciamo, la voglia di ripartire e di far conoscere il suo stile di gioco. Con diversi giocatori che sono arrivati, diciamo, che Motta ha, diciamo, sostenuto delle regole di, diciamo, la parola, la parola d'ordine per lui è intensità. Intensità, voglia di crederci, perché ci ha fatto vedere durante i video sugli allenamenti della Juventus, una voglia di intensità, una voglia di intensità, lavoro duro, allenamento, fatica e la voglia di correre. Perché con Allegri non avevamo visto niente, ce le scordavamo, questa cosa qui, queste cose qui ce le scordavamo. Fatica, lavoro, intensità e voglia di credere, voglia di crederci nel lavoro, di squadra. Perciò, il dialogo è la base del lavoro di Motta, chiama per nome tutti i giocatori e si ferma per parlare e spiegare. Perché con Allegri non spiegava totalmente niente. Zero, un zero assoluto, la parte di Allegri, perché non c'era, non c'era dialogo, non c'era dialogo neanche nella dirigenza, non si dicevano niente, tutto era l'oscuro di tutto, non c'era una botta risposta, non c'era proprio niente. Con Allegri e con Tiago Motta si è visto che sta nascendo così una nuova Juventus, una squadra che Motta vuole intelligente ed utile, probabilmente vedremo meno cross rispetto al passato, più rotazioni a centrocampo e più verticolarità. Ragazzi, raseggi veloci, passaggi di prima, un, cioè, passaggi di palla, veloci, diciamo, meno perdita di palla, diciamo, possono anche sbagliare, meno passaggi indietro del portiere, speriamo, però la cosa più utile che Tiago Motta deve fare è la mentalità, la mentalità che deve sostenere con la squadra che sta creando. Adesso, diciamo, stiamo ai primi ricami di creazione di progetto, perché speriamo che finalmente con Motta nasce un progetto. e ragazzi, Motta, Motta responsabilizza, scusate, molto i suoi giocatori e il gruppo. L'allenamento per Tiago Motta è una cosa seria, dice, la base del lavoro, non c'è tempo di rifiatare. e un ultimo dettaglio, dietro, dentro lo spogliatoio. Solo staffe e giocatori hanno questo dialogo, nessuna figura estra. Bene, e ragazzi, speriamo adesso, adesso la Juventus e la dirigenza e anche i giocatori si rendono conto che devono crearsi una stima tra giocatori, allenatore e dirigenza. ci devono capire, devono far sì che si equilibrano i tre aspetti, per cui adesso non abbiamo ancora visto, abbiamo notato, abbiamo notato delle differenze è troppo presto per dire epocali però si è visto la differenza di atteggiamento, possesso palla, scambi di prima, eccetera. è questo che vuole Motta la voglia di, la voglia di lavoro grinta e è la voglia di giocare perché con Tiago Motta vogliamo un po' di divertimento, diciamo un po' di equilibrio tra allenatore e squadra di cui i giocatori devono devono capire cosa vuole l'allenatore e l'allenatore vuole buttare fuori le loro caratteristiche questo è l'importante è importante anche per per lo sviluppo in campo europeo adesso che ci sono adesso che ci sono 4-5 competizioni non ho ancora capito perché adesso la Champions League cambia vogliono ingrandire con mi pare 5 squadre non so cosa nascerà però nascerà ovviamente un casino stiamo a vedere è tutto è tutto è tutto è una novità dietro l'altra dietro l'angolo e con il calcio mercato ancora in fase iniziale la Juventus almeno deve comprare almeno diciamo 4-5 giocatori e adesso vedremo vedremo ci sarà da divertirsi e anche da da valutare e anche diciamo di almeno non ci incazziamo più almeno non ci incazziamo più per per lo scarso rendimento della squadra con Allegri benvenuto Tiago Motta speriamo bene mi raccomando ragazzi restate sintonizzati per aggiornamenti su l'Aventus su Motta non dimenticate di iscrivervi al canale cliccate la campanella per non perdervi nessun aggiornamento anche se non sono non sono proprio il classico tuttologo tuttologo della della situazione del calcifrecato comunque ragazzi ci sentiamo alla prossima ciao ragazzi